Quanti eterosessuali ci sono stasera per alzata di mano? Uno, due? Lui è eterosessuale, lei no. Perfetto. Non vergognatevi, forza, quanti siete? Ragazzi, veramente, 4-5, le prime pille niente, niente. No, cioè, si vergognano a Milano, sabato sera escono con la mascherina ancora per non farsi riconoscere in ufficio. Io dico, sono preziosi, sono rarissimi, sono come i quadrifogli. Cioè, se incontrate un eterosessuale, toccatelo, che vi porterà fortuna. Io una volta ho toccato una ragazza etero e è diventata lesbica. Mi ha portato fortuna. A mia mamma, quando le ho detto che ero lesbica, lei, felicissima, mi fa «Meno male, Anna Gaia, che sei lesbica. Avevo paura che tu fossi vegana». Peraltro io sono vegana. Ma ho paura di dirlo a mia madre. Ma ho paura di dirlo a mia madre. Ma ho paura di dirlo a mia madre. Quindi, la mia madre è un problema.